eric e giovanni si trasferiscono da milano a colonnella acquistano la loro prima casa saranno emozionati viene a scoprirlo con me che ti riprendo eccomi che si prova emozionata dai dai ci dispiace solo che non sei qui con questi tuoi splendidi figli salutate la mamma però passa in ufficio quando torni passa in ufficio ciao 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 ciao